Tanta paura, ma fortunatamente senza conseguenze gravissime per una bambina di 4 anni soccorsa dai sanitari del suo M118 di Crespano. La piccola attorno alle 14.30 è caduta dall'altalena di casa, ha battuto la testa ed è andata in crisi epilettica con convulsioni, trauma cranico, immobilizzata, ma già parlava con la mamma quando è stata caricata sull'elicottero che l'ha trasportata all'ospedale di Treviso.